l'allenatore alla fine è sempre quello no nel nel mirino quando le cose vanno male le chiedo io soprattutto diciamo in generale ma per me è un divertimento è veramente la le volevo chiedere questo visto che dal punto di vista delle prestazioni voglio bene a tutti quindi lo faccio anche per no ma è veramente è un divertimento è capito pensa un domani quando magari non ci sarò più io smetterò tutte queste cose dovete prendere un altro di mira quindi è meraviglioso ma io mi diverto è divertente vado anche perché mi stimolate su questo mi stimolate veramente voglio capire perché tutto questo nervosismo anche soprattutto dopo la partita di Coppa Italia cioè quello che è successo nei spogliatoi se ce lo spiega perché è stata una partita all'andata comprensibile nervosismo al ritorno meno quindi volevo chiedere che cosa è successo e perché c'è stato questo suo sfogo grazie cosa è successo perché chi è che che ha detto che è successo qualcosa ma da chi sono stati riportati scusi mi dica nomi e poi di questo credo che noi bisogna pensare alla partita di domani abbiamo la possibilità ancora di fare bene e faremo il possibile poi se alla fine non ci riusciremo vuol dire che ci sarà stato qualcuno più bravo di noi assolutamente ma tu con il quarto posto sarei soddisfatto da solo con il rendimento della Champions Fabiana o con il microfono ma io non ma io non ma dillo te scrivilo te ma te hai un pensiero scrivi il pensiero tuo io non sono soddisfatto di niente io non sono stato neanche soddisfatto quando abbiamo perso la Champions cioè che domanda è scusa è una domanda ci sono delle domande diciamo più intelligenti che si possono fare hai scritto questo è un pensiero tuo è appunto bravo allora infatti ma te l'ho detto apposta scrivi un tuo pensiero scrivi allegri ma non lo devo dire assolutamente a te come? andiamo ragazzi senza microfono non si parla grazie a te 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 grazie a te